Tragedia sul Gran Sasso. Scomparsi da ieri sono stati trovati senza vita. Si tratta di due uomini, uno di 55 anni di Roma e uno di 42 anni di Sansepolcro in provincia di Arezzo. I due alpinisti ieri mattina avevano raggiunto l'Abruzzo per un'arrampicata sul Gran Sasso attraverso la via ferrata Intermesoli, ma in serata non sono rientrati a casa. L'elicottero del soccorso alpino ha localizzato i corpi in un canalone. Così verso le 23 il soccorso alpino e speleologico abruzzese è stato attivato dal numero unico del Lazio per i dispersi, contattato dalla moglie di uno dei due allarmata dal fatto che il marito non fosse tornato a casa e non rispondesse al cellulare. Subito la prefettura di Teramo ha attivato il protocollo dei soccorsi in montagna e ha allertato il soccorso alpino e speleologico. Sono partite squadre di terra dalla stazione di Teramo che hanno ritrovato le macchine dei due alpinisti in prossimità della base per Intermesoli. In malgrado le forti raffiche di vento e la pioggia hanno raggiunto la base della parete senza però riuscire a identificare i due escursionisti. Samani, l'elisoccorso con a bordo i tecnici del soccorso alpino, è decollato dall'aeroporto di Preturo, ha sorvolato la zona e in prossimità di Pizzo Intermesoli, in fondo a un canale, sono stati identificati i corpi dei due uomini. I tecnici del soccorso alpino hanno allertato la prefettura e hanno ottenuto dal magistrato il nulla ossa per il recupero dei due alpinisti, tra le ipotesi al vaglio e le mutate condizioni climatiche di ieri che potrebbero aver fatto precipitare i due uomini.